Salve a tutti e bentornati a questa sesta parte del World Rogue di Final Fantasy 5 Cazzo, io, io Siamo alla sesta parte E abbiamo appena scoperto la pranzo di Spolitei di Paris E soprattutto che il gioco sta diventando un horror Eh già Che Ettore sta adorando tantissimo Quando ci ha perso appena Sì sì, adoro gli horror anche se dover giocare di più Perché ci sono parecchio Ah ecco, un punto di salvataggio Oh un punto di salvataggio, tu lo ignori così? Ah giustamente, pensavo che fosse un fuoco, un fallo Un fallo, tu sei un genio del male Ah qua si possono usare le tende se non mi sbaglio Mi fai salvare prima? Sì salva Però ci salviamo subito Ok Vai Dietro Oggetti E qui poi c'è Oggetti Tenna Tenna si può usare E' viva, forse abbiamo qualche speranza Oh che bellissimo E' gialla poi Ti si dona benissimo Botte in solo Ti sta benissimo Ma cosa diavolo? Non ne ho idea Però lo volevo dire E l'ho detto Ok Bene Attraversiamo questo Ma che ci penso ma Questo posto scena Eh avevamo già tutta la vita Perché ci sono fermati riposando a dormire Sì Babbo non è bella E vai sprecato una tenda Sì Sì Ma come siamo intelligenti noi Non ne ho idea No Non ne ho idea 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 Bianca Ricordati stavate non spregarla Tutto usano solo Controfattese non funziona Oddio Gallup Gallup sei troppo forte Ha imparato il contraattacco pure Quindi adesso l'attacco automaticamente Bravo Gallup basta Basta Sta diventando troppo forte Così è una minaccia per l'autorità di Bazzi Che hai fatto Usiamo Gallup Il nuovo leader Oh mio dio Quale onore Ecco questa lezione platform Molto simpaticosa Tentiamo dentro Oh cos'è Il mappamondo Perfetto Adesso mi sa che siamo vicini All'esplorazione totale della mappa Presso potremmo girare tutto il mondo Bene Oh tesoro Un intimito Un intimito Una coda di fenice Quanta culo Per ora dove cazzo devo andare Oh cazzo Oh I poteri immensi di Gallup Tu ti propone velocemente Vesti dare un'occhiata Non vuol dire solo perché c'è la fretta qua Infatti cura tu Gallup Meglio Non è male in effetti Nera Nera No Ti prega Guarda Gallup Che forse No Contro di loro gli attacchi esigenza Farà molto Guarda Sono golem Di gulfi Sono bussato di pietra Moriranno No Usa la magia Contro di loro farà molto male Si va bianco con la nera 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 Fuoco Mi pare che lo si mette C'è il fatto Dai C'è il fatto C'è il fatto Il fatto di seguire Allora Io mi auguro Che ci sia qualche altra strada Roccia 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 Ui Oh Che bello E cosa ho preso qua? Una nave Uh Peccato che non entro Nello Putta puttana Peccato che non entra Gallup ora basta Sono gli divertimenti agli altri Non va bene Ma ora è lui il leader Cosa vuole Meno uno Meno due Che cazzo Che quant'è Per il co sta diventendo un pochino bravo Meno male Muori ho ho hahahahaha questa è questo argola di livello questa è bellissima nave nave siamo arrivati da qualche parte eh da dove diventa anche ghost questo gioco questo un po si mettono tutti in colmone uno dei coglioni di uno dei coglioni di uno dei coglioni di il suo cane suo nipote nonno vini stuprami stuprami stai facendo parte stuprami il momento di calore sera solo bruciando no 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 resisti calo certo non si ricorda chi è questa è stata la sua fortuna wow che il nome è sirena no aspetta se non mi sbaglio sirena almeno nel 6 è il nome di un esper cioè uno di quelli che invochi quindi wow ma come cazzo fai che ne è maschiata ma perchè me ne ha pure però a lei non gliel'ha dato abbia stato una bozza sul culetto un tipico bravo gali tutto merito tuo inculiamo la sirena wow è giusto aumenta la diversificazione uccidiamola un altro boss oh no aumenta la sua velocità forza nera 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 qui non si scherza tuono tuono vero si oh oh ok ci ritroviamo già in culato ho paura perché vuole che la magia nera sia in culo vai galù vai galù ora lo diventa pure esistente una non morta bene che scherza che scherza non conoscevo la mezza che cosa no se non è morta vuol dire che anche il fuoco funziona ricordati non meno spero non posso valentare tanto gli anni che fa affari si sono inutili se fa 0 se fa 5 mi cambia il fuoco e cambia quel 5 può essere infatti allora quando oddio lena allora vai nera 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 oddio e appunto quando è zombie bisogna ricordarsi che bisogna essere la magia nera invece quando non lo è lena però mi sta morendo un antico è nato sì sì no no che cosa hai usato è altruismo no lena pure paris scuola di fenice su lena che è sportato oh non c'ho letto sexy Ettore leone scudare lena lena ho un elisi rinico non è da normale forse meglio un elisi così che si faccia no no perché stai facendo così devi chiedere due volte dai lena ci serve no bors che talento stessa possiamo portare in vita pari cazzo io lo sei la stai esaminando dai dai sei la nostra vita spero oh mio dio quello che fa più danni oh no siamo inculati alla grande spero però we won è vinto guarda apparse è luminescente perché è lento un troppo paris rimane senza punti esperienza è sbrilluccicoso giubba di bronzo bene giubba di bronzo giubba di bronzo parisi niente più di esperienza se muore un cretino è una ragazza sveglia è uguale franzo risate sì siamo usciti dal oh fermati una bella tendina ci vuole tendina che bello campeggio bene bene abbiamo simpato prova ora dovrebbero avere l'attività andiamo a fare il mondo spettivati che iniziano a scassare quindi la noi li faremo tutti fuori con i superpoteri di Gali poteri al massimo e Gali ha un nuovo comando il reiki poi bisogna vedere un potere oddio 100 è contrattata crea così se non ci fosse lui un branco di perdenti ringraziate quest'uomo lo sto mandando dove ho mandato a scoprirlo ah un villaggio perfetto siamo ora siamo in una struttura open world cario carven 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 non lo cambia fin carven carven no dove l'ho bella non l'hai fatto è complica vabbè ok abbiamo l'opportunità stupro abbiamo l'opportunità d'oro di rifornirci di pozioni simono lo faremo prova di metterlo di sgorzo forza pozioni lo cammina sul posto inutili le armature non c'è la vita c'è quindi ci sono importanti tra poco affronteremo mostri ancora più potenti ma non mi stiamo avanti parla con la gente mi parlai con qui che blocca la strada importante scopre una cosa quindi non posso passare al posto in un posto scena parliamo con quella che assomiglia stanno avendo la madre di pazze ecco 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 cretino voliamo wow che ragionamento